buongiorno benvenuti all'autonec siete arrivati proprio al momento giusto stavo finendo di consegnare una nuova opera la signorina lui è maurizio mio collega responsabile dopo vendita per qualsiasi cosa che avrà bisogno sarà a sua disposizione perfetto andiamo a vedere l'auto dai ecco signora la chiave della sua nuova crossland le faccio tanti auguri e per qualsiasi cosa rimaniamo a disposizione auguri buon viaggio grazie mille questo è il nostro showroom dove troverete tutta la nostra gamma opel dalla più grande alla più piccola e tutte le nostre occasioni garantite da 1 a 5 anni adesso vi porto in officina dove troverete i nostri meccanici specializzati pronti a servirvi sempre con il sorriso andiamo ecco questa è la nostra officina opel che rolet service piaggio e multimarche siamo da oltre vent'anni al vostro servizio suo concessionario è alimentato al cento per cento di energie rinnovabili quindi impatto zero sull'ambiente siamo pronti per il futuro oltre ad essere concessionari opel per locarnese gambaroni e valli siamo concessionari anche di che rolet per quanto riguarda il servizio e concessionari ufficiali piaggio per quanto riguarda i litori commerciali abbiamo un servizio autonoleggio un servizio di carrozzeria è un servizio aerea condizionata e quant'altro per quanto riguarda i pneumatici abbiamo anche un hotel i pneumatici dopo il cambio effettuato il design opel è in continua evoluzione e da noi puoi trovare tutti gli ultimi modelli quando acquisti un opel sei sicuro che il motore rispetta i più alti standard ecologici e le emissioni dichiarate sono uguali a quelle effettive oltretutto con opel finance service puoi acquistare un'auto in leasing senza conto tutta la gamma opel oltre essere diesel e benzina da adesso è anche elettrica e ibrida e adesso vi presento le ultime novità opel ti aspetto in concessionaria per un test drive spero che questo video sia stato informativo ed utile vi aspettiamo qui a riazzino da noi in concessionaria anche solo per un caffè da noi siete benvenuti ciao 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 ciao